Ha tentato di uccidersi Pierfrancesco Muriana. Mentre era atteso in tribunale ieri mattina per essere interrogato a proposito del depistaggio nel caso della tragedia di Rigopiano, l'ex capo della Mobile, attuale dirigente del commissariato di Manfredonia, era nei pressi dello stadio di Francavilla al mare, chiuso nell'automobile, tentando di soffocarsi col gas di scarico. Tardo dieci minuti aveva scritto al suo legale prima di sparire. Presumibilmente il suicidio era programmato già dal giorno precedente, quando Muriana aveva acquistato un tubo di gomma e del nastro adesivo e aveva scambiato la sua auto ibrida con quella del padre. Il poliziotto però non è riuscito a portare a compimento il suo piano. Una pattuglia dei carabinieri forestali ha notato l'auto appartata e ha salvato la vita dell'aspirante suicida. Attualmente Muriana è ricoverato a Chieti, nel reparto di psichiatria, con una leggera intossicazione da monossido di carbonio. Nell'auto in cui la sua vita sarebbe potuta terminare, un biglietto in cui spiega le ragioni del gesto disperato. Non c'entro nulla con la vicenda a Rigopiano, avrebbe scritto il poliziotto. Muriana aveva accusato tre carabinieri forestali di falso nella conduzione delle indagini sul crollo dell'hotel, accuse poi ritenute prive di fondamento per la procura che archiviò il caso. Da qui la denuncia per calunnia, da cui Muriana si sarebbe dovuto difendere ieri mattina. Muriana, che era disposto a lasciare moglie e figlia, è stato ascoltato già ieri pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Chieti, così come i suoi familiari e amici, mentre la procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.